Dopo il Miss e la Manna, dopo il Presidente, abbiamo davanti alle nostre telecamere anche il Vicepresidente Nocella. Anche per te la stessa domanda, una prestazione convincente, 6-0 contro l'Arqualiano e un Casoria che vola. Veramente ti dico la verità, è anche inaspettata per me stesso, perché l'Arqualiano è una realtà importante. Penso che sia una squadra che addirittura possa lottare per i play-off. La nostra squadra e i nostri ragazzi hanno risposto alla grande. Ogni reparto ha dato una prova eccezionale. Siamo molto contenti perché abbiamo trovato quella quadratura e continuità di risultati che in questi due anni, in questo anno e mezzo, c'era mancata. Devo fare i complimenti in primis al Mr. Lamanna che da quando è arrivato ha trovato la quadratura del cerchio, direi tra virgolette. Perché è veramente una squadra compatta, ci sono sia in campo e sia con la testa i ragazzi. Ho visto una cattiveria dal primo minuto appena sono entrato in campo che non vedevo da tempo. Quindi iniziamo a crederci sempre di più. A proposito di numero, a proposito di Lamanna, da quando è arrivato 9 partite, 7 vittorie e 2 parigi. Quindi davvero ha dato quel cambio di marcia fondamentale alla squadra. Sì, questo attesta appunto il grande lavoro del nostro Mr. Siamo contenti di averlo conosciuto. Siamo davvero soddisfatti per il suo lavoro e crediamo che possiamo crescere ancora tanto. Anche perché poi la settimana prossima ci aspetta una partita che ritengo davvero tostissima su un campo a Casal di Principe complicato. Con una realtà che giocheranno con il sangue e gli occhi. E quindi confido nei nostri ragazzi che devono essere sempre concentrati. Non dobbiamo montarci la testa, anzi lottare tutta la settimana negli allenamenti per sfidare l'Alba Nova. Anche per te un saluto ai tifosi che anche oggi sono a corsi numerosissimi al San Mauro. Sì, ormai lo diciamo ogni settimana. A questo progetto se non ci fossero loro non potrebbe andare avanti. Anche perché è troppo bello vedere 400, 500, 600, dipende dai casi, anche 1000 in alcune circostanze. Esultare per i gol della nostra squadra. Quindi va sempre, tutto ciò lo stiamo facendo in primis per loro. E quindi li ringraziamo ancora e speriamo di festeggiare tutti insieme la promozione.